Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Quando pensiamo ad un alcolico in Italia, credo che il primo pensiero che venga in mente a tutti sia il vino, che è classicamente associato all'Italia, che insieme alla Francia si contende il ruolo di principale nazione vitivinicola del mondo. Certo, ci sono nazioni che adesso come quantità ne produrranno comunque tanta, ma nessuno ha la nomea dei vini italiani e di quelli francesi. In effetti in Italia oggi l'alcolico più consumato, o meglio consumato dalla più persone, è proprio il vino, con ogni regione che ha le sue particolarità. C'è però un altro alcolico che negli ultimi anni sta rapidamente recuperando sul vino stesso, e forse vuoi per il minor costo, vuoi per il gusto diverso, vuoi anche per magari una minor gradazione alcolica, cosa che permette di consumarne di più, la birra sta progressivamente recuperando. E questo è molto particolare, se vogliamo, perché vuol dire che stanno progressivamente cambiando anche le nostre abitudini alimentari, con la birra che va ad accompagnare tutta una serie di cibi, su cui il vino forse sarebbe una scelta un po' azzardata. Della storia del vino sono sicuro che parleremo in futuro, ma oggi, grazie ad Ilaria, che ha scritto un'altra delle sue pillole bellissime, proviamo invece a raccontare la storia della birra, una storia che forse nella nostra mente sembra assolutamente facilissima, perché immediatamente birra Germania, birra paesi del nord, Europa e così via, ma che invece, come vedremo, è molto molto diversa da quella che potremmo immaginare, perché la prima birra non è stata creata in Germania, non è stata creata in Europa, ma è stata creata, pensate un po', in Mesopotamia e in Egitto, in luoghi che oggi la birra, essendo alcolica, praticamente quasi non la consumano. Ad ogni modo, non voglio anticiparvi troppo, quindi se non siete iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati quando esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a parlare della storia della birra. Vi siete mai chiesti come facciamo a sapere quando un certo alimento è comparso sulle nostre tavole? Beh, alcune cose sono ovviamente facilmente indicative, ad esempio se troviamo un dipinto che rappresenta quell'alimento, o qualcuno che ne parla come di una nuova scoperta. Quando però si tratta di alimenti molto antichi, la cosa è più complessa, anche perché a volte capire dall'arte antica, quello che ne resta, geroglifici piuttosto che rappresentazioni su tavolette, che cosa volesse rappresentare esattamente quale tipo di alimento di bevanda fosse, è un po' più complesso. Nel caso della birra però abbiamo due vantaggi. Il primo è che la birra per i popoli mesopotamici, come vi ho detto prima è comparsa per la prima volta, era un alimento talmente importante che ne parlavano addirittura nelle loro leggende e avevano addirittura una dea, la dea sumera Ninkasi, che era proprio la dea della birra. L'altro punto è che grazie delle ricerche archeologiche ovviamente e grazie anche alle moderne tecniche, siamo riusciti addirittura a riscontrare delle tracce di birra sul fondo di antichi contenitori, contenitori che probabilmente erano utilizzati proprio per la sua produzione. Perché ho citato i sumeri? Beh perché tra tutti i popoli dell'antica Mesopotamia erano secondo gli storici uno dei più legati proprio alla produzione e al consumo di birra. Pensate che sappiamo addirittura come veniva fatta quella birra, perché è stato trovato un poema, un poema epico, una preghiera, chiamatela come volete, dedicata proprio a Ninkasi, quindi alla dea della birra, che ci racconta i vari passaggi della produzione della birra secondo i sumeri. Ora, la prima domanda forse che ci dovremmo fare è i sumeri hanno inventato o hanno scoperto la birra? Ovviamente inventato vorrebbe dire che ad un certo punto hanno deciso di creare questa nuova bevanda. Beh, secondo gli storici è molto più probabile che alla base di tutto ci sia invece una scoperta del tutto casuale e il fatto che sia avvenuto in Mesopotamia è legato innanzitutto al fatto che qui sono sorte le prime città della zona del Mediterraneo o comunque allargando del Medio Oriente e per il secondo motivo a causa della temperatura. Ci possiamo immaginare questo. In queste prime città ovviamente si era sviluppata l'agricoltura, che era una delle basi per la nascita di queste città. Bene, man mano che si sviluppava l'agricoltura, la popolazione iniziava ad avere la necessità non solo di consumare i prodotti che venivano, prodotti ovviamente in quel momento dalla terra, ma anche di immagazzinarli per le stagioni in cui questi prodotti non c'erano, a cominciare ovviamente dai primi cereali coltivati, che dovevano poi essere utilizzati per produrre pane e quant'altro anche nei mesi successivi. Bene, probabilmente l'uomo inizia a sperimentare vari modi di conservare questi cereali, fino a quando qualcuno non ebbe l'idea di prendere dell'orzo e di metterlo all'interno di un contenitore e per evitare che degli animali potessero entrare nel contenitore e mangiarlo, coprirlo o comunque bagnarlo con dell'acqua. Da qui, probabilmente, iniziò la storia della birra. Ora, che cosa ci racconta il poema di Nincasi? Beh, come vi dicevo, ci racconta come la birra venisse fatta. Il primo passaggio è quello che vi ho detto. Veniva preso l'orzo, veniva raccolto facendone un mucchio dopo averlo ovviamente pulito, lasciando solamente i chicchi, e veniva bagnato, lasciando che l'acqua sull'orzo lo facesse germinare e creasse in questo modo il malto che era la base della birra. A questo punto, il malto veniva mischiato a tutta una serie di aromi, delle sostanze varie, come ad esempio delle spezie, piuttosto che del miele, delle sostanze dolci, che venivano impastate all'interno del malto, andando a creare un pane, il pane da birra, che era chiamato il Bappir. Ripeto, tutte queste cose ce lo racconta proprio questa preghiera, questo poema Nincasi, che dice proprio Nincasi, tu sei quella che con una grossa spatola fa il pa e il Bappir, tu sei quella che poi prende il Bappir e lo cuoce. Perché questo pane da birra a questo punto doveva essere cotto. Il pane ovviamente era già attivato, la germinazione aveva attivato tutta una serie di enzimi che stavano progressivamente lavorando su questo pane, che però a questo punto doveva essere cotto, ovviamente a basse temperature, per permettere agli enzimi di sopravvivere, non essere distrutti, scissi, dalla temperatura. A questo punto il Bappir, una volta cotto, veniva mischiato con dei datteri, o con del miele, comunque sostanze che contenevano zuccheri, che facevano iniziare la fermentazione, fermentazione che proseguiva ovviamente in acqua e che faceva ovviamente da questa fermentazione che nasceva sviluppare quest'acqua che si prendeva tutto questo gusto e che dava proprio la birra. Ovviamente questa birra che i Sumeri creavano non era esattamente come quella moderna, è stata provata a essere ricreata e si è scoperto che aveva un gusto molto molto dolce, innanzitutto perché mancava il lupolo, che è un elemento presente nelle birre moderne e che dà il gusto amaro alla birra. All'epoca invece si usavano delle cose più dolci, come appunto il miele, i datteri, spezie, che davano questo gusto dolciastro, che secondo alcuni, quelli che l'hanno ricreato, ricorderebbe un po' il sidro, il sidro di mele, quello chi l'ha provato può dare l'idea. Bene, questa birra aveva un'altra particolarità, scordatevi le birre moderne che sono pure e che se messe in un bicchiere permettono di vedere dall'altra parte. Queste birre erano un po' più delle brodaglie, per così dire, tanto che dovevano essere messe in dei contenitori abbastanza grandi, lasciate a riposare per un tempo abbastanza breve, perché la loro conservazione non era molto lunga, ma per far sì che tutte le varie impurità scendessero verso il basso. A questo punto potevano essere consumate, ma non versandole nei bicchieri o in bottiglio o quant'altro, ma utilizzando delle specie di grosse cannucce, probabilmente delle canne scavate, che permettevano di bere la bevanda nella parte più alta, lasciando ovviamente tutte le impurità nel basso. Ci sono proprio delle rappresentazioni che, devo essere sincero, viste che gli occhi di oggi fanno quasi un po' ridere di come questa bevanda venisse sorbita, ma era l'unico modo appunto per evitare di andare a pescare anche in basso. Come dicevo, per i sumeri, la birra era un qualcosa di fondamentale, perché era la base, insieme al pane, proprio dell'alimentazione, tanto che pane e birra ad un certo punto diventero addirittura dei modi per pagare chi lavorava per un signore. Ora, la produzione della birra, non avendo ovviamente una grande capacità di conservazione, inizialmente era fatta in modo molto artigianale e locale, erano molto spesso le donne che lavoravano la birra, la producevano per la casa o per chi circondava. Progressivamente però iniziarono a crearsi anche dei gruppi più organizzati, diciamo un artigianato più organizzato, tanto che addirittura la creazione della birra e la sua vendita dovette essere organizzata per legge e ci sono addirittura all'interno del codice di Hammurabi, il più antico codice di leggi che conosciamo, proprio delle leggi apposite su come la birra dovesse essere creata e soprattutto come dovesse essere venduta. Insomma, c'era già necessità di regolamentare il tutto. Come vi dicevo però, la birra, partendo dalla Mesopotamia, si iniziò a diffondere tutto intorno, tanto che il secondo popolo che iniziò ad utilizzare la birra furono gli egizi. Ora, in realtà non sappiamo esattamente se la birra sia partita dalla Mesopotamia e si è arrivata in Egitto con qualcuno che ha viaggiato e ha spiegato come farla oppure letteralmente assaggiata da un egizio mercante che poi è tornato indietro per raccontarlo. Questo ovviamente non lo sappiamo. Secondo alcuni è una semplice scoperta contemporanea da parte di entrambi i popoli che avrebbero sviluppato due modi leggermente diversi di fare la birra. Per gli egizi la birra aveva un'importanza pari a quella dei Sumeri. Anche loro la utilizzavano come base alimentare, ma nel loro caso la produzione della birra assunse molto più rapidamente un concetto quasi industriale, tanto che sorsero proprio delle piccole fabbriche, ovviamente locali, perché anche per loro c'era difficoltà di mantenerla per lungo periodo, che producevano questa birra per conto e in nome dell'imperatore. Sappiamo che la birra era uno degli alimenti che l'imperatore doveva fornire a chi lavorava per lui, per la costruzione dei monumenti, come ad esempio le piramidi, e la birra all'epoca, che era abbastanza meno alcolica rispetto a quella attuale, era decisamente più simile all'acqua, solo frizzante e con un gusto, era considerata un alimento, letteralmente un alimento, da dare anche ai malati, a chi si stancava molto, da qui appunto i lavoratori, o a chi era malato, perché era considerato un alimento che in qualche modo potesse far riprendere le forze a chi stava male. Nel papiro di Ebers, che come vi ho raccontato qualche tempo fa è uno dei più antichi testi di medicina esistenti, sono presenti addirittura tutta una serie di medicamenti che sarebbero dovuti essere fatti con la birra, addirittura con l'indicazione di quale tipo di birra usare in base alla fermentazione. Gli egizi, come vi dicevo, però misero proprio in piedi anche un sistema quasi industriale. Si passò da piccoli contenitori a contenitori molto grandi, in cui la birra veniva prodotta in grandi quantità e poi smerciata o ceduta direttamente dall'imperatore. Gli egizi fecero anche delle modifiche alla sua produzione. Ad esempio, a differenza dei sumeri, iniziarono a utilizzare molto di più il frumento in associazione all'orzo, ovviamente cambiando in questo modo anche il gusto della birra stesso. Inoltre, molto probabilmente, furono tra i primi a rendersi conto che potevano in qualche modo influire sul processo di fermentazione, aggiungendo più enzimi di quelli che già naturalmente si andavano a creare nel momento della germinazione. Come? Beh, la prima cosa probabilmente che fecero fu semplicemente di riutilizzare gli stessi contenitori più volte mantenendo una base del pane e in questo modo partendo da una base che già aveva più enzimi e stava, per così dire, lavorando di più. Poi ad un certo punto si resero conto che un modo per accelerare questo processo era prendere il pane da birra, metterselo in bocca, masticarlo, ovviamente senza deglutirlo, impastandolo con la propria saliva per poi sputarlo. Questo perché gli enzimi contenuti nella nostra saliva, ovviamente loro non lo sapevano, ma gli enzimi contenuti nella nostra saliva sono gli stessi enzimi che vanno proprio ad agire sulla scissione del malto e sulla nascita appunto del pane da birra così come era quello che a loro serviva. È facile pensare che dagli Egizi e dai popoli della Mesopotamia progressivamente questa birra abbia iniziato a diffondersi verso nord venendo a contatto con quelle popolazioni a cominciare dai Greci che invece un alcolico già ce l'avevano perché quando la birra entrerà a contatto con i popoli greci questi già consumavano e producevano del vino. A questo punto si crea la spaccatura. I greci e i loro autori pur ammettendo che in qualche modo la birra si era diffusa anche in Grecia seppur con produzioni assolutamente scarsissime iniziano a contrapporla proprio al vino. Innanzitutto definiscono la birra il vino d'orzo ed è comprensibile è una bevanda alcolica come il vino che nasce dalla fermentazione come il vino ma invece che dalla vite nasce dall'orzo quindi questo ci fa capire come in effetti avessero fatto questa associazione mentale. I greci però considerano la birra un alimento barbaro intendendo come barbaro tutti i popoli che non erano greci in contrapposizione proprio al vino tanto che se gli egizi avevano scritto nel papiro di Ebers i vantaggi dell'utilizzo della birra i greci invece scriveranno nei loro trattati di medicina quanto la birra rispetto al vino faccia male abbruttisca l'uomo gli dia tutta una serie di problemi di digestione insomma i greci iniziano a far circolare l'idea che la birra provenga dai popoli barbari mentre solo il vino possa elevare in qualche modo l'uomo un preconcetto che devo essere sincero dura forse in alcuni casi ancora oggi. Nel resto d'Europa la situazione invece era più varia ad esempio in Italia abbiamo un contenitore risalente alla cultura gola secchiana del 560 avanti Cristo che ci mostra delle tracce di birra segno che probabilmente dato che non poteva essere stata prodotta altrove e qui portata perché non vi erano dei metodi di conservazione queste culture già producevano e consumavano della birra probabilmente con metodi non molto diversi rispetto a quelli sumeri ed è facile pensare che anche nell'antico territorio romano ci fossero delle produzioni probabilmente locali probabilmente casalinghe di birra man mano che però i romani avanzavano e vennero a contatto ovviamente con le culture greche dell'Italia meridionale progressivamente iniziarono anche loro a spostarsi verso l'utilizzo del vino tanto che anche loro assorbirono tutti i vari preconcetti dei greci nei confronti proprio della birra che faceva male e che non era degna di un popolo evoluto quando poi si espansero verso nord venendo a contatto ovviamente con i popoli a cominciare dai celti che abitavano nella parte centro-settentrionale dell'Europa questi preconcetti vennero in qualche modo dimostrati perché tutti questi popoli che loro vedevano come barbari facevano un largo uso di birra non sappiamo da quando non possiamo ovviamente datare loro inizio ma sappiamo che i celti utilizzavano la birra sia per motivi religiosi che per motivi di consumo normale l'unica eccezione per i romani era proprio un'eccezione religiosa ed erano le feste in onore di Demetra per la quale veniva prodotto della birra che veniva poi anche comunemente consumata perché per un semplice motivo Demetra era la dea delle messi e dato che la birra derivava dal frumento e dall'orzo non c'era un elemento migliore per festeggiare questa dea se l'era antica si chiude con questa contrapposizione il medioevo nel nostro immaginario è il periodo in cui invece la birra esplode è il momento in cui la birra diventa quello che conosciamo oggi e in effetti in qualche modo è così secondo alcuni a far iniziare l'espansione nella produzione della birra furono i popoli che in effetti nel medioevo diventarono centrali in Europa popoli barbari tra virgolette che avevano portato con sé l'uso della birra e che lo spargeranno anche nel resto d'Europa secondo altri uno dei motivi sarà il fatto che la produzione della birra smetterà di essere casalinga e inizierà progressivamente a in qualche modo industrializzarsi forse un termine un po' eccessivo ma con una serie di scoperte di cui tra poco vi parlerò la birra diventerà un qualcosa di paragonabile in qualche modo al vino il medioevo lo sappiamo tutti per la birra è l'epoca in cui inizia la produzione da parte delle grandi abbazie dei monasteri questo perché erano le strutture che da una parte avevano maggiore stabilità dall'altra avevano molto spesso a disposizione non solo le capacità grazie ai monaci che lì vivevano e lavoravano ma anche le strutture adeguate per produrre la birra un po' poi smerciarla anche alle città vicine per la sua consumazione la più antica abbazia che ancora oggi produca della birra è l'abbazia di Weltenburg che iniziò la produzione della birra addirittura nel 1050 quindi tra poco festeggerà mille anni di produzione che però si gioca la palma di produzione più antica ancora esistente con un birrificio statale bavarese che avrebbe aperto i battenti pochi anni prima insomma se la giocano letteralmente ma entrambi stanno arrivando al millennio ad ogni modo ovviamente per tutto il centro nord Europa in cui la diffusione della birra era difficile della vino che lo scuso era difficile perché la vita la vita a causa del clima non cresceva in maniera adeguata la birra iniziò ad alimentare un alimento molto importante addirittura c'è una vulgata che dice che la birra venisse consumata più dell'acqua normale e questo ovviamente non è vero anche solo per una questione di semplice costo ma è vero comunque che la birra iniziò a diventare per la Francia del nord per l'Inghilterra per la Germania l'Olanda e così via un alimento importantissimo da aggiungere ad ogni tavola tanto che si stima pensate che il consumo pro capite nel corso del medioevo in Inghilterra di birra era di quasi un litro al giorno circa 250 300 litri di birra pro capite quindi per persona ogni anno una quantità enorme ovviamente quella birra non era la birra attuale continuava a essere una birra abbastanza dolce nel medioevo la birra continuava a essere prodotta mischiando il prodotto a varie sostanze diverse quindi ogni zona aveva delle birre che avevano dei gusti molto diversi ora se pensate alle birre attuali tendono a essere tutte abbastanza marognole esistevano invece birre molto diverse birre alle ciliegie birre alle spezie birre insomma mille modi diversi di fare la birra ognuno diverso ma soprattutto era una birra che aveva una gradazione alcolica relativamente bassa e questo permetteva di farla bere in quantità discrete anche a donne incinta piuttosto che a dei bambini appena un po' cresciuti perché la birra era comunque così importante nel medioevo ma per un motivo molto semplice era una delle poche fonti di acqua sicuramente pulita perché nella produzione della birra l'acqua veniva bollita e questo permetteva di eliminare tutta una serie di microrganismi batteri quant'altro che in qualche modo rischiavano di provocare delle malattie e ovviamente non conoscevano i microrganismi non conoscevano tutto ma gli antichi nel medioevo avevano semplicemente capito che consumare la birra in qualche modo riduceva il rischio di contrarre alcune malattie che invece si potevano prendere dall'acqua contaminata e questo l'aveva iniziata a far preferire poi ripeto da qui a dire che la birra fosse più consumata dell'acqua ovviamente ce ne passa anche se qualche storico ha provato a dirlo ma la maggior parte non sono assolutamente d'accordo nonostante una certa opposizione da parte degli studiosi che si rifacevano ovviamente ai testi greci come vi ho detto prima in realtà ad un certo punto proprio all'interno della chiesa la birra inizia ad essere meno demonizzata ad esempio Sant'Adelardo che era cugino di Carlo Magno scriverà addirittura un trattato nell'822 sulla birra addirittura la birra inizierà ad avere un santo protettore Sant'Arnolfo di Suassonne che era un ecclesiastico era stato prelato amate di un monastero era stato fatto vescovo e poi una volta che era stato fatto vescovo era stato espropriato di questo titolo ora forse chiunque avrebbe cercato di lottare per tornarne in possesso invece il nostro era tornato nel suo monastero tutto felice e qui si era dato alla produzione della birra perfezionandolo siamo circa nell'undicesimo secolo il processo produttivo e proprio per questo venendo ricordato come santo patrono dei birrai tanto che viene rappresentato con una specie di pala che è quella che serviva per mischiare il pane da birra nello stesso periodo però inizia a sbucare nella produzione di birra quello che diventerà poi suo protagonista cioè il luppolo come vi dicevo fino a questo momento la birra veniva aromatizzata in tanti modi diversi e c'era anche un termine per questa aromatizzazione il gruit che era proprio questo ammasso di varie sostanze che davano gusto alla birra come vi dicevo prima era diverso da posto a posto bene Sant'Ildegarda un'altra santa perché evidentemente chi faceva la birra era portata alla santità iniziò a proporre di utilizzare il luppolo ora il luppolo è quello che dà il gusto amaro alla birra e che comunemente utilizziamo ma ha un altro vantaggio utilizzato nel momento della bollitura nel momento in cui veniva prodotta effettivamente la birra ha una capacità antibatterica che permetteva in qualche modo di aiutare la sterilizzazione della birra e di renderla in questo modo molto più stabile e molto più duratura e quindi più facile da immagazzinare e da mantenere per molto tempo e in questo modo più facile da produrre proprio grazie all'utilizzo del luppolo che progressivamente si sviluppò negli anni successivi fino a diventare praticamente il centro della produzione di birra di via circa 500 anni proprio grazie al luppolo la birra smise di essere prodotta e consumata localmente e iniziò ad essere progressivamente prodotta e spostata tanto che alcune zone dell'Europa a cominciare dalla Baviera iniziarono a diventare letteralmente i centri di una vera e propria produzione di birra di alta qualità che progressivamente iniziava a diffondersi nelle zone intorno ed esattamente come per il vino esistevano varie specialità anche ogni paese iniziò ad avere la propria birra che poi veniva spostata smerciata negli altri paesi iniziarono a sorgere anche dei veri e propri regolamenti quasi come il codice di Hammurabi questa storia è quasi circolare e il più famoso è il cosiddetto Reinevgebot l'avrò pronunciato malissimo ma non importa è promulgato nel 1516 in Baviera da Guglielmo IV questo regolamento implicava che letteralmente vuol dire regolamento di purezza andava ad indicare esattamente come dovesse essere prodotta la birra utilizzando quale tipo di orzo quale tipo di frumento ma soprattutto andava a indicare che doveva essere prodotta con il luppolo e valeva per tutta la Baviera andando così a escludere tutti gli altri meccanismi di produzione questo proprio con la volontà di salvaguardare un prodotto che fosse il più possibile stabile e il più possibile consumabile anche per lungo tempo questo regolamento sarà importantissimo perché progressivamente stendendosi anche ad altre zone d'Europa andrà ad eliminare tutta questa variabilità nella produzione della birra fino a far letteralmente scomparire tutti gli altri tipi di birra pensate che per i bavaresi era così importante questo decreto che quando la Baviera entrò dopo la guerra franco-prussiana a far parte della confederazione tedesca tra le cose che chiese preliminarmente ci fu proprio che quel regolamento venisse esteso a tutta la Germania e così fu nonostante le proteste di alcune zone in cui la birra veniva ancora prodotta e siamo ancora nel 1800 a metà del 1800 veniva ancora prodotta in maniera diversa pensate che inizialmente però quel regolamento aveva anche un altro scopo siamo come vi dicevo nel XVI secolo un'epoca di grossa turbolenza grosse guerre in cui le carestie non mancavano e uno dei motivi per cui era stato fatto quel regolamento era anche quello di limitare il consumo di frumento per la produzione di birra regolamentando anche questo per evitare che mancasse il frumento per fare il pane questo ci fa capire anche quanto la birra venisse consumata nonostante tutte queste innovazioni però la birra dell'epoca era ancora abbastanza diversa rispetto a quella attuale a cominciare dal colore oggi se pensiamo una birra il primo colore che ci viene in mente è quello ombrato molto chiaro ma all'epoca in realtà la birra era di solito abbastanza scura alcune erano volutamente scure come ad esempio quelle inglesi che erano ottenute facendo cuocere il malto a temperature leggermente più alte altre invece erano più scure perché meno pure ma comunque la birra chiara che conosciamo oggi non esisteva a inventarla a metà dell'ottocento sarà ancora una volta un birraio bavarese che si chiamava Josef Grohl il quale però non la inventò a casa sua in Baviera in Germania ma la inventò in quella che oggi è la Repubblica Ceca nella città di Pilsen cos'era successo? Pilsen aveva un proprio birrificio che ovviamente produceva per tutta la città che però all'epoca era gestito da un mastro birraio che evidentemente non sapeva fare il suo lavoro tanto che negli ultimi anni erano addirittura giunti a distruggere gran parte della produzione di birra perché imbevibile o facilmente deteriorabile avevano così deciso di cercare un nuovo mastro birraio e proprio Josef Grohl che già lavorava nel suo birrificio di famiglia si era spostato a Pilsen e una volta giunto qui aveva deciso di provare a creare una nuova birra come l'aveva creata? Beh, innanzitutto si era portato del lievito a bassa fermentazione che era uno dei segreti della sua famiglia aveva poi deciso di utilizzare un malto molto molto chiaro e del lupolo che cresceva proprio in quella zona chiamato Saz dall'unione di queste tre cose nacque per la prima volta la birra chiara così come la conosciamo oggi la bionda quella che tutti chiamiamo comunemente bionda quindi la birra di quel classico colore giallo-oro e che venne chiamata partendo proprio dalla zona di Pilsen la Pilsner ora in realtà il nostro Grohl non lavorerà molto a Pilsen perché a un certo punto i cittadini decideranno di non riconfermarlo e di affidare il birrificio ad un altro mastro birraio ma man mano che si diffuse la sua scoperta man mano che si diffuse questa nuova birra tanti altri birrifici iniziarono a sorgere e a loro volta produssero questo tipo di birra molto chiara che era molto apprezzato e soprattutto sembrava essere molto più pura e molto più facilmente vendibile rispetto all'altra tanto che il nome Pilsner che inizialmente vi ripeto indicava la produzione della città di Pilsen si diffuse e divenne appunto Pilsner dovunque fosse prodotta oggi il birrificio originale che produsse la prima Pilsner produce la Pilsner Urquell che se andate a Praga è la birra che vedrete dovunque che letteralmente vuol dire la Pilsner originale quella teoricamente è la prima birra bionda esistente in Europa ci rimane una cosa sola c'è la birra il colore quello giusto c'è il luppolo ma ci manca la festa e sì perché non si può parlare di birra se non si parla di Oktoberfest che è la festa della birra che ogni anno da più di due secoli si festeggia in Baviera a Monaco come nacque l'Octoberfest? Beh nacque il 12 ottobre 1810 il sovrano di Baviera dell'epoca Ludwig I Ludovico I si era sposato e per festeggiare insieme al suo popolo questo sposalizio decise di tenere una grande festa in cui ovviamente essendo la Baviera famosa per la birra scorreva birra a fiumi l'Octoberfest che poi ha continuato a crescere nel corso degli anni si è ripetuto ad un certo punto sono iniziate a essere definite quali erano le sei case produttrici di birra che potevano vendere all'Octoberfest sono arrivate le giostre è arrivata la notorietà dal 1950 è iniziata anche la tradizione che la prima botte di birra viene spillata dal sindaco di Monaco in qualche modo dall'inizio alla manifestazione così come fossero le Olimpiadi è stata interrotta in pochissime occasioni per la prima guerra mondiale dal 1914 al 1918 e per la seconda dal 1939 al 1945 in tutti gli altri anni l'Octoberfest è andata avanti in qualche modo ha raccontato al mondo la birra insomma la birra progressivamente si è diffusa ha smesso di essere grazie anche alla cultura popolare ha smesso di essere la bevanda dei poveri la bevanda di chi non può permettersi di vino e progressivamente è diventata una bevanda con sempre una maggiore importanza che non ha mai più riacquisito quell'importanza cerimoniale che aveva quando è stata creata tra i sumeri e tra gli egizi ma che in qualche modo un po' l'ha recuperata basti pensare che birra e pizza è probabilmente una delle associazioni cibo bevanda più diffuse in tutto il mondo abbiamo parlato dell'Europa abbiamo parlato del Medio Oriente non abbiamo parlato del resto del mondo in effetti e ve lo lascio come ultima curiosità alcuni ricercatori pensano che in Cina fosse stata scoperta ed utilizzata la birra addirittura da 7000 anni prima di Cristo quindi molto prima di quando l'avrebbero iniziato a fare i sumeri ma probabilmente la sua produzione era assolutamente scarsissima poco importante per la cultura e i reperti non sono così chiari quindi questa parte ve la lascio da parte se qualcuno ne sa di più e vuole aggiungere è assolutamente ben accetto ora in realtà Ilaria mi aveva mandato una quantità di materiale assolutamente gigantesco c'erano storie di mastri birrai come si era evoluta la birra i vari gusti ho cercato però di raccontarvi la storia nelle sue parti principali magari in futuro se l'argomento vi interessa partendo anche proprio da quello che mi ha scritto Ilaria proveremo ad approfondire altri aspetti e prima o poi questo ce l'ho in cantiere da tanto faremo anche una storia del Dino io mi fermo qua spero che questa pidola vi sia piaciuta nel caso ovviamente se avete voglia lasciate un mi piace non lo dico mai ma sarebbe in effetti una cosa gradita in realtà non li controllo neanche mai mi sto perdendo ad ogni modo se volete riascoltarla potete farlo qui su youtube potete farlo ovviamente sul nostro podcast lo trovate in descrizione sotto il video sotto il video c'è anche la playlist con altre storie legate al cibo per chi è interessato a questi particolari aspetti della storia se volete propormi altre pillole come ha fatto Ilaria che ringrazio ancora per un'ultima volta potete farlo qui potete farlo sui nostri social potete farlo sulla mail trovate tutto in descrizione e per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare tra qualcuno di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso questa non è una peristoria ma mi sembra il modo migliore per salutarvi salute